Il nome dello studio è il nome di una spada giapponese, la famosa katana dei samurai, scelto proprio per la mia passione per il tatuaggio giapponese e per il suo stile. Ho iniziato verso la metà degli anni 80, in un periodo che in Italia il tatuaggio era visto molto male. Nel nostro ambiente, l'ambiente patto, invece abbiamo introdotto il tatuaggio artistico-estetico. Giravamo molto fra Londra e Amsterdam, dove queste pratiche erano molto più avanzate che in Italia. Lì abbiamo conosciuto tatuati e tatuatori della seconda generazione, la cosiddetta generazione estetica-artistica. Avendo fatto poi il liceo artistico, mi sono trovato abbastanza orientato verso questo tipo di lavoro. Mi ricordo che mia madre mi diceva non fare questo lavoro, una moda, prima o poi finisce. E la mia risposta era, mamma, le magliette le metti nel cassetto, è finita la moda. Il tatuaggio non lo puoi mettere in un cassetto. I primi anni non si riusciva a viverci perché comunque le richieste non erano molte. Abbiamo lavorato tantissimo sul coprire e sistemare vecchi tatuaggi fatti al mare, spiaggia, a militare, in caserma. Poi pian piano la cosa è iniziata a diffondersi. Il grosso boom l'abbiamo avuto verso gli inizi degli anni 90, quando hanno iniziato a tatuarsi i personaggi televisivi. Le prime ballette, i calciatori. Questo ha permesso di sganciarci dalla connotazione negativa del tatuaggio e portarlo a un discorso un po' più libero. Da fenomeno di nicchia è diventato un fenomeno di costume. I soggetti più diffusi sono variati molto negli anni. Siamo partiti con il periodo del tribale celtico e dei folletti. Siamo passati attraverso i delfini, le lettere cinesi, le stelle. Adesso vanno moltissimo le scritte in corsivo. Mentre da alcuni anni, e credo che la cosa durerà ancora per molti, molto diffuso è il tribale maorio-polinesiano. Negli anni ho provato varie forme di pubblicità. Alla fine mi sono reso conto che la pubblicità migliore è il lavoro che viene portato sul corpo dei miei clienti. Il passaparola, e al di là del passaparola, bisognerebbe inventare un nuovo termine, il passaocchio, è quello che ci porta più clientela. I lavori negli anni, comunque rimasti belli addosso alla gente, sono quello che mi porta più lavoro di tutti. Più di mille pubblicità, più di mille volantini. La gente è soddisfatta, il cliente l'ha fatto vent'anni fa, il lavoro è ancora bello, è sopravvissuto, quindi dimostriamo anche una competenza igienica. E una competenza tecnica, perché tanti lavori possono essere belli i primi sei mesi, e per problemi di attrezzature, di competenza, impastarsi, perdere definizione, nel giro di poco tempo. Ho partecipato a numerose convention, in Italia e all'estero, un bel po' di volte ho vinto, altre volte non ho vinto, a volte ho partecipato alle premiazioni, a volte ho semplicemente tatuato i miei clienti, ho clienti in Svizzera, in Australia, in Francia, in Germania, in Belgio, oltre che naturalmente in Italia. Uno dei premi più belli come trofeo è stata una damigiana da 6 litri di vino, che abbiamo distribuito tra l'altro fra tutti i partecipanti, e l'idea era stata carina, un premio da condividere, da consumare con tutti i partecipanti, al posto del solito trofeo personale da buttare su una mensola e dimenticare. Grazie a tutti!